È stato il sindaco di Mercatello sul Metauro, Fernanda Sacchi, a segnalare alla Procura della Repubblica il comportamento di un suo dipendente. Il primo cittadino, infatti, aveva saputo che l'uomo di 59 anni aveva richiesto di inserire il suo computer privato tra le forniture destinate al comune. Gli accertamenti, svolti dalla Guardia di Finanza di Urbino, sotto la direzione della Procura, hanno permesso di far emergere come il dipendente, dopo aver acquistato un PC per la sua abitazione presso la società incaricata di fornire materiale informatico all'ente comunale, abbia poi tentato di indurre il titolare della stessa azienda ad inserire il suo vecchio computer, privo di valore commerciale, tra le forniture da effettuare nei confronti del comune per compensare la cifra che avrebbe dovuto pagare per quello nuovo del valore di 700 euro. L'imprenditore però ha rifiutato ed anzi ha informato il sindaco dell'accaduto. Così, non contento, il 59enne si è rivolto ad un'altra impresa del posto che si era già giudicata all'appalto per diversi lavori. E qui il titolare ha deciso di fatturare il PC alla ditta di informatica che lo aveva fornito all'uomo. All'esito delle indagini, effettuate anche tramite intercettazioni telefoniche, i finanzieri hanno segnalato alla Procura della Repubblica Feltresca sia il dipendente che l'imprenditore per il reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. A seguito dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, l'imprenditore ha messo le proprie responsabilità e si è prodigato per risarcire l'ente comunale. La Procura ha quindi provveduto a richiedere per quest'ultimo l'archiviazione degli atti, richiesta accolta dal GIP del Tribunale di Urbino, mentre nei confronti del funzionario è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per le due ipotesi di induzione in debita a lui contestate. I fatti sono stati segnalati anche alla magistratura contabile che ora dovrà valutare il danno provocato all'erario.